roberto salve salve carissimo questo video durerà un po di più per dedicare la grande scalata col cai che abbiamo effettuato oggigiorno il monte greco 2.285 metri insomma non una schifezzetta sì c'è una cosa non è poco siamo partiti dalla remogna siamo stati di fine qua e possiamo godere del monte marsicano che vediamo qui poi cosa veniamo i monti della meta e del pedroso vediamo ricordiamo che questo è il greco occhio buchinar perché praticamente è la vetta più alta vediamo pure delle persone delle persone che hanno tra qui il paese qua sotto che ogni giorno salgono col gregge e domenica attira uno dovrebbe vedere la partita dovrebbe stare a casa fuori buttare invece sto dicendo la la maiella con il gran sasso ve l'ho fatto pure vedere abbo siamo partiti dall'acqua della pia tutta la piana la nostra grande ricca legge il monte a razzecca carissimo senza motociclisti sopra questa volta almeno così sembra da qui che possiamo vedere abbo prima che non ci sta un cacchio non c'è un albero non c'è una foglia non c'è non c'è niente e possiamo dire che questo a livello meteorologico possiamo dire che non diciamo si stiamo a perturbazioni per non cicloni che in maniera permanente anticicloni vabbè roberto un saluto da durazzano un saluto da verna nuova per il national durazzani vi ricordiamo il national durazzani a presto ragazzi grazie grazie grazie